ciao a tutti ragazzi buongiorno oggi finalmente mi è arrivato questo pacchettino meraviglioso da non mi ricordo se inghilterra o irlanda o olanda o qualche posto del genere comunque finalmente è arrivata la mia gopro hero 9 black l'aspettavo da tantissimo io non ho mai avuto una gopro come ben sapete ho avuto diverse action cam di modelli cinesi tipo questa qui la c900 della victor che adesso vi apro anche per fare poi il confronto delle dimensioni rispetto alla hero 9 black che è piuttosto grandicella quanto dicono quindi questa la mettiamo qui dunque la prima cosa che colpisce che quest'anno invece di mettere la struttura in plastica hanno utilizzato questa struttura in carta che si apre tra l'altro molto bella cioè da vedere hanno fatto una bella grafica tolta la struttura in carta che buttiamo la dietro abbiamo questo portapenne come possiamo chiamarlo che contiene tutti i nostri oggetti ho preso il bundle quello completo insomma e quindi all'interno come vedete ci sono tutti gli oggettini l'ho già aperto ieri perché mi è arrivato ieri ho già provato fatto alcuni esperimenti ho caricato le batterie perché arrivano scariche e ho fatto l'aggiornamento alla gopro qua dentro c'era a parte la sd card da 32 giga che ho già montato e francamente non capisco perché hanno messo solo 32 giga avrebbero potuto fare di meglio con il prezzo totale che abbiamo pagato io voi non so se l'avete comprata anche voi e all'interno qua c'erano tutte le separatorie di cartoncino qua all'interno troviamo ovviamente la nostra gopro hero 9 black bellissima che mettiamo qui da parte poi vi faccio vedere le dimensioni abbiamo una pinza con la parte magnetica per appenderla su il frigorifero non lo so dove avete cose magnetiche sulle automobili però poi se andate avanti si stacca comunque può essere interessante come attrezzino fare il cavetto usb c perché ha l'usb c questa gopro la seconda batteria perché la prima è già montata all'interno un piedino classico di quelli da action cam e un un elsa tipo un elsa di una spada qui ci puoi montare un coltello quello che vuoi oppure puoi montarci la gopro che ricordiamo in questa versione come nella 8 black ha i piedini che vengono giù in questo modo e quindi potete montarlo su tutti gli attacchi gopro che ci sono in giro insomma adesso ho questo qui in mano ma ci sono tantissimi articoli pirata e non originali che potete acquistare a un prezzo decisamente più basso rispetto a quanto potreste acquistare da gopro come già sapete o dovreste sapere insomma la batteria è stata migliorata è stata maggiorata mi pare del 30 per cento o qualcosa del genere questa è da 3,85 volt 1720 milliampere quindi è anche più grossa è anche più grossa di una batteria normale di un action cam tradizionale infatti questa qui è la victor ac 900 che vi facevo vedere prima già guardate guardate la dimensione sarà un 30 per cento più grande quindi effettivamente un 30 per cento di più di batteria ci sta ma se le dimensioni contano possiamo dire che questa è la differenza che potete avere tra una action cam tradizionale e la gopro la gopro iro 8 già era più grande della iro 7 e delle tradizionali quindi action cam di questa form factor qui questa qui è ancora più grande se notate non dico che ce ne stanno due ma quasi ci stanno quasi due action cam tradizionali dentro la gopro eccola qua la nostra iro 9 black volevo solo farvi vedere che qua c'è il cassettino per aprire il vano batteria qua dentro c'è la batteria quella gigante la sd card e il gecchino per caricare insomma la nostra gopro usb c da questo dal lato di sotto ovviamente ci sono i piedini che vi ho fatto vedere prima che già conosciamo dal lato sinistro abbiamo il tasto accensione e mode e il grilletto sopra lo shutter insomma il vetrino davanti questo qui dell'obiettivo è smontabile e svitabile e cambiabile finalmente perché nella gopro iro 8 è stata una di quelle cose che li hanno veramente criticato tantissimo lo schermo è più grande dietro e poi c'è ovviamente lo schermino davanti che la cosa più importante e interessante al momento adesso vado ad accenderla gli ho fatto solo un click come vedete lo schermino davanti si è acceso sta riprendendo la fotocamera che riprende una fotocamera quindi c'è una ripresa infinita praticamente e dietro c'è lo schermino grande che insomma come sempre fa il suo dovere adesso io faccio partire una registrazione dalla gopro giusto per farvi vedere un po com'è la qualità io in questo momento ho settato 2,7k ad alto bitrate a 60 fps quindi dovrebbe essere decisamente buona come qualità video ma delle mie prove prima di questa direi che ci siamo in questo momento ho il profilo colori flat quindi se vedete dei colori un po' spenti e per questo si possono rielaborare meglio in post produzione quindi per adesso sto cercando di utilizzare questa modalità devo dire che anche il microfono mi è sembrato veramente non male mi è piaciuto non mi piace che dalla fotocamera frontale sembra avere un pochino di ritardo l'immagina per carità l'importante da fotocamera davanti è vedere vedersi vedere dove stai puntando l'obiettivo però sinceramente avrei preferito qualcosa di un po' più responsive adesso non sto a entrare nell'ordine dei menu farvi vedere tutte le funzionalità nuove insomma se ne sto parlando tantissimo in giro quindi forse sapete già che c'è questo hyper smooth 3 super fantastico eccezionale veramente che ti permette addirittura di ruotare la camera di 360 abbastanza velocemente l'immagine rimarrà stabilizzata ferma fissa frontale inoltre c'è il controllo dell'orizzonte quindi anche lì ci sarà una stabilizzazione che terrà l'immagine sempre allineata con l'orizzonte e ci sono tante funzionalità nuove che potrete scoprire man mano utilizzando la fotocamera io adesso ancora non l'ho utilizzata tantissimo una cosa che sicuramente mi piace rispetto alle altre action cam cinesi insomma o anche alle fotocamere di fascia più alta come le mirrorless eccetera e che quando andate in giro ce l'avete magari in tasca perché comunque è vero che questa fotocamera è più più grande delle action cam tradizionali però è sicuramente più piccola rispetto alla mirrorless come questa qua o come quella che sta riprendendo in questo momento e la cosa bella è che quando siete in giro basta schiacciare il tasto e registrate lui si accende registra rischiacciato il tasto si spegne e questa cosa è veramente eccezionale comodissima per chi va in giro e fa vlog in giro questa fondamentalmente difficile da usare per fare vlog in casa perché anche la luminosità è più bassa perché il sensore è più piccolo per tante ragioni però quando siete in giro magari c'è una bella giornata di sole o comunque anche una bella giornata nuvolosa dove le ombre non sono così tagliate in maniera netta può essere interessante utilizzarla per fare dei vlog l'audio è decisamente buono si può utilizzare quasi senza toccarlo se non ci sono rumori ambientali l'audio esce comunque molto bene quindi direi che si può utilizzare così si può anche impostare di esportare la traccia wave direttamente io quando ho fatto le registrazioni non so se in questa registrazione ho fatto questa cavolata avevo toccato il microfono avevo messo il litro sul microfono e quindi non si sentiva benissimo però è una cosa da imparare da imparare ad usare da tenere in mano in ogni caso volendo si può utilizzare il bastoncino piuttosto che un treppiede un gorilla pod o quello che volete però già così si può utilizzare appoggiare fare quello che si vuole una cosa che non mi piace e purtroppo la devo dire è che questi piedini ok sono belli si connettono tutti gli accessori della tipologia gopro quindi tutte le cose che avete potete utilizzarle però non c'è la vite fotografica quindi in generale io non la posso mettere su un cavalletto senza avere il suo adattatorino da schiaffarli sotto con la vite fotografica messa al di sotto anche quella però tutto sommato è piuttosto versatile come fotocamera è più pesante, molto più pesante rispetto alle action cam tradizionali più pesante rispetto alla Hero 8 Black però ha il suo perché ha una solidità ha un perché è proprio bella da tenere in mano bella da portare in giro, bella da utilizzare e belle le immagini che vengono fuori quindi sinceramente sono strassoddisfatto lo schermino frontale poteva rispondere un po' meglio vediamo se magari con i prossimi aggiornamenti miglioreranno la situazione però nel frattempo è già perfettamente utilizzabile e basta non ci resta che andare ad utilizzarla e vedere che cosa viene fuori da questa camerina nei vlog in giro, nei vlog insomma sportivi se farò degli sport ma difficile quindi ancora una volta grazie di essere stati con me anche oggi io vi ho fatto questa piccola recensione e unboxing della GoPro Hero 9 Black presto magari farò dei video più specifici dove vi dico le impostazioni che utilizzo se ho trovato dei pregi, dei difetti a parte questi insomma palesi che mi sono trovato davanti ha un difetto molto grosso scusatemi se mi interrompo nei saluti e che scalda come una bestia cioè scalda veramente tanto 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 anche a risoluzioni tipo a 1080 a 60 fps già scalda tanto c'è da dire però che questi due alettine qua sotto se collegate, io immagino che siano sono in plastica però si scaldano tantissimo perché sono collegate probabilmente anche dentro per dissipare eccetera eccetera attaccandola dagli accessori magari dissipa un po' di più devo fare la prova, il tentativo guardate si è attaccato il laccetto del USB al connettore magnetico e va bene dai vi ho detto più o meno tutto quello che è tutto quello che penso e che mi è venuto in mente scartando questa Hero 9 Black sono molto contento di possederla e spero di farvi presto dei nuovi video dove porterò dei contenuti con questo gioiellino perché fa delle cose veramente veramente interessanti intanto mi ripeto grazie ancora di essere stati con me anche oggi seguitemi su Instagram, su Facebook su solocosenove.it e ci vediamo alla prossima ciao ciao